ben ritrovati cari amici di Futsal Time per la Felice Venezia Mestre a poche ore dall'esordio dei Lagunari nel campionato di Serie A due Girone B con noi c'è proprio il tecnico della prima squadra Luigi Pagana ben ritrovato mister grazie mille dell'invito ben trovato a tutti mister la prima cosa che le chiedo è innanzitutto quelle che sono le sensazioni per l'inizio di una nuova stagione di un nuovo campionato e come è andato il precampionato la preparazione e le varie amichevoli che i ragazzi hanno disputato per avvicinarsi alla gara contro l'Altamante abbiamo fatto un buon precampionato dal punto di vista dell'impegno del e della gestione degli allenamenti siamo andati via abbastanza bene i ragazzi si sono impegnati tantissimo l'intensità in allenamento è stata veramente elevata le amichevoli diciamo abbiamo iniziato bene poi abbiamo avuto una flessione ma secondo me normale visto che ne abbiamo fatte tante di amichevoli e quindi mentalmente non siamo riusciti magari a tenere sempre la stessa intensità delle prime partite però diciamo che più o meno abbiamo tenuto abbiamo perso una partita col Pordenoni in amichevole ma con buona prestazione loro ma comunque noi abbiamo avuto tante occasioni fisicamente l'abbiamo retta bene forse anche meglio di loro siamo riusciti ad andare insomma anche quella partita lì abbiamo prodotto poi non siamo riusciti a finalizzare bene sicuramente ci sono state partite più o meno valide però diciamo che strutturalmente la squadra mi è sembrata abbastanza abbastanza forte dopo ci sono prestazioni migliori e peggiori però il pre campionato sono contento il pre campionato penso che la squadra ci sia forse numericamente non siamo tanto ampi però qualitativamente abbiamo abbiamo qualcosa in più dell'altro anno purtroppo si è concluso questo pre campionato con con qualche piccolo infortunio e quindi dovremo affrontare la prima con qualche assenza però siamo pronti a dare battaglia la prima è subito contro un avversario molto interessante che è l'alta marca una neopromossa ma che comunque può schierare comunque se andiamo a vedere la rosa due quintetti più uno quasi a livello di rotazione l'alta marca come pensa di di arrivare comunque a questa gara e come ha preparato la sfida all'alta marca il primo derby veneto della stagione ma guarda le prime di campionato più o meno si assomigliano tante volte c'è molto spesso assomigliano perché c'è una grande voglia di iniziare la squadra di solito risponde quasi sempre bene sulla prima di campionato nel senso mentalmente fisicamente diciamo che ci arrivi dopo una preparazione che sicuramente non ti dà al massimo sulla prestazione però dal punto di vista fisico sicuramente diciamo siamo preparati anche perché abbiamo iniziato per tempo quest'anno quindi abbiamo tutto avuto tutto il modo di arrivare fisicamente preparati è ovvio che l'impatto si vede solo quando si inizia quindi praticamente abbiamo fatto la partita che riteniamo più giusta per preparare abbiamo preparato la partita che che riteniamo più giusta vista la situazione e vediamo aspettiamo e vediamo di sicuro non andremo là senza armi ecco noi ci giocheremo la nostra partita come al solito le prime gare sono sempre molto intense secondo me sono d'accordo con lei sul fatto che comunque senza armi non ci si presenta mai ma che comunque secondo me il girone di quest'anno forse di più ancora che negli altri anni consente di andare veramente su tutti i campi a giocarsela a fare bene perché c'è un equilibrio c'è qualche squadra un po' più pronta anche a livello di roster ma c'è tanto equilibrio all'interno di questo girone dove sicuramente andare a fare punti non sarà mai facile è d'accordo con me mister ma guarda fare punti sempre difficile soprattutto in questa categoria e se non hai una rosa sufficientemente ampia e magari con una super qualità anche anche le squadre di grande qualità comunque devono faticare per portare a casa punti in questa categoria qua quindi la difficoltà c'è sempre più o meno quest'anno per quanto riguarda il girone mi sembra che sia abbastanza equilibrato mi dà l'impressione sia un girone abbastanza equilibrato con delle punte notevoli perché ci sono un paio di squadre che sicuramente hanno nel roster almeno qualcosina in più e secondo me quelle saranno le squadre che si giocheranno la vittoria del del girone e per il resto vedremo il resto dipende tanto da dagli equilibri che si creano da come va la stagione la fortuna anche alle volte un pochino incide perché nei momenti cruciali magari succedono quelle piccole cose che poi determinano l'andamento di una stagione sai quindi bisogna iniziare a vedere per il resto e lei che cosa si aspetta dai suoi ragazzi quest'anno sicuramente la terza stagione dia 2 la finisce venezia mestre è arrivata sempre più pronta l'anno scorso ancora di più dell'anno prima quest'anno lei che cosa si aspetta anche senza parlare di classifica posizioni obiettivi se c'è qualcosa che lei si aspetta di vedere dai ragazzi guarda io mi aspetto l'ennesimo scalino di crescita e l'ho visto già questo scalino perché ti dico in preparazione l'intensità che abbiamo tenuto è stata veramente altissima anche i ragazzi nuovi si sono inseriti benissimo hanno portato non hanno portato a rallentamento anzi hanno portato un incremento quello che mi aspetto oltre da oltre quello che mi aspetto da ragazzi più grandi devo dire che mi aspetto qualcosa anche da ragazzi più giovani perché noi abbiamo fatto la scelta di tenere la rosa magari proprio numericamente giusta per avere la possibilità di inserire ragazzi più giovani e da loro mi devo aspettare tanto perché il progetto nostro presuppone che ogni anno noi si riesca ad inserire qualcosina di ragazzi giovani e quindi quello che veramente mi aspetto è che questi ragazzi rispondano presente che diano quel apporto che noi ci aspettiamo ecco che poi è la nostra limpa vitale insomma quindi sì un progetto comunque decennale quello della finisce vennezza maestra che punta proprio su questa cosa qui no ma quest'anno sono stati presi dei profili nuovi mister sicuramente sia dal punto di vista qualitativo sono stati scelti ma anche con una certa esperienza secondo me per proprio per aiutare questi ragazzi che si inseriscono i nuovi i giovani ecco su questi tre profili nuovi quindi su su della valle su belle buone e su daga che cosa mi dice come si sono inseriti come li ha trovati e come l'ambiente finisce venezia mestre ha risposto a una cosa che non è così consueta dalle vostre parti partiamo dalla società la società è stata per ora impeccabile nel senso che ha fatto tutti i passaggi necessari e non credo che ci siano stati neanche il minimo dei problemi coi ragazzi quindi da questo punto di vista l'inserimento è andato abbastanza bene per quanto riguarda la rosa noi l'abbiamo presi per incrementare la qualità a seconda della caratteristica di ognuno di loro e secondo me hanno incrementato non solo la qualità ma anche l'intensità dell'allenamento perché mentalmente sono ragazzi al quale piace allenarsi e questo per noi è importante perché l'esempio sai che trascina e quindi avere ragazzi che vengono da fuori e che e che hanno voglia di allenarsi quanto e più di quelli nostri ovviamente ha aiutato tutto il gruppo a fare un po' quel saltino di qualità per quanto riguarda la porta ragazzi giovani ecco io nell'esempio credo tanto quindi per ora l'esempio è stato ottimale nel senso che si sono sempre espressi con una grande determinazione con una grande presenza agli allenamenti e questo per me è quello che interessa per tutto il resto ragazzi giovani ovviamente devono vedere come 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 si gioca il campionato in generale non solo gli esempi interni ecco quello quello che mi interessava di più era proprio la mentalità salire di livello ancora un attimino come mentalità e secondo me in questo in questo sono stati molto utili sicuramente fino adesso ma sono sicuro che anche per il futuro mister con il dsm negale ne parlavamo in una delle ultime interviste che abbiamo fatto che comunque man mano che si sale di categoria inserire numericamente i giovani proprio inserire più giovani diventa complicato inserirne x in a2 rispetto ad una serie p ad una serie c1 lei è d'accordo con me se dico che la grande differenza che un giovane trova nell'inserirsi in a2 è nel dover scegliere prima nel dover far prima una determinata lettura con una velocità di pensiero maggiore sì a parte il discorso della lettura che quello è una questione di campo ma ancora prima c'è l'obiettivo che deve essere forte cioè se mentalmente il ragazzo non ha quella grande mentalità di voler arrivare anche se tecnicamente fa le scelte giuste ma poi dopo la testa non regge e si salta prima da arrivare a questo quindi secondo me prima di tutto bisogna vedere quale e quanto obiettivo ha un ragazzo nel voler arrivare a questi livelli e dopo nel giocare sul campo ovviamente quello quello che interessa sono soprattutto le scelte perché poi di sicuro c'è un discorso di fisicità di sicuro c'è un discorso di conoscenza tattica ma ma la scelta fa sempre la differenza poi alla fine mister una una delle ultime domande che le voglio fare in questa intervista lei ha affrontato i massimi eh campionati del futsal italiano in tre decenni diversi no? Eh forse anzi questo è il quarto decennio perché ha fatto il novanta il primo poi dal dieci al venti questo è il quarto decennio in cui affronta comunque la due com'è cambiata? Mi sta dando dell'anziano praticamente. No 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 mi strega guardavo la sua pagina wikipedia perché ricordiamolo lei ha una pagina wikipedia aggiornata che spiega un po' quella che è stata. Non lo sapevo neanche figurati per quanto ci tenga queste cose qua io sono l'anti l'antisocial in questo momento. Mister tra Pisa Cesena Arzignano San Giorgio Venezia il primo Venezia come è cambiata questa categoria? Ma cambia di continuo cioè non si può pensare di fare l'allenatore mantenendo le stesse idee nel tempo cioè bisogna sapere essere tutti lì quando si fa questo questo ruolo qua. Bisogna essere tanto d'utili perché questo mondo qua è un mondo in grande evoluzione perché voglio dire siamo siamo ancora in una fase in cui non c'è professionismo a fatica c'è professionalità in certe in certe figure. Quindi figuriamoci se siamo arrivati al punto in cui non si deve essere tutti lì o si deve si devono avere delle idee standardizzate che valgono negli anni. Nel tempo si cambia sempre ma in tutto non è che non sono in questo sport qua. Bisogna essere sempre molto elastici e saper prendere i cambiamenti e anticiparli tante volte è importante. Diciamo che è cambiato tanto questo sport qua da quando ho iniziato adesso. Sono cambiato io, ho cambiato lo sport, sono cambiati gli interpreti, i giocatori, sono cambiate tante cose insomma. Quello che non cambia alla fine è l'aspetto mentale. L'aspetto mentale deve essere sempre quello cioè come come si approccia, come come si vive la manifestazione, tutta quella parte lì quella non cambia, quella non cambierà mai secondo me. Quello è secondo me chi capisce come gestire quell'aspetto lì ha sempre un grande vantaggio sugli altri perché tante volte sì la tattica è importante, la tecnica assolutamente però i giocatori si leggono soprattutto dalla mentalità alla fine perché si può essere anche molto più scarsi di altri ma avere un rendimento molto più elevato se la testa è forte, se la mentalità è forte. Quindi dopo il saper gestire queste personalità, questi caratteri, queste cose qui che fa tanto la differenza in questo sport. Non è soltanto la conoscenza tattica e io quando ho iniziato pensavo molto di più all'aspetto tattico e all'aspetto tecnico che al resto. Quindi già questo è un grande cambiamento. Ecco, il saper leggere le situazioni, il saper leggere le persone, il saper gestire tutto quanto in modo che ci sia equilibrio, è questo che fa la differenza poi, vera, vera. Proprio lo scalino finale si percorre su questa linea qua che è sempre uguale, che non è che è cambiata mai nel tempo. Mister, io la ringrazio tanto per essere stato con me e le faccio un grosso in bocca al lupo per la gara contro l'Altamarca. Grazie a te, grazie a tutti, insomma. Speriamo di riuscire a dare il massimo come è stato in questo periodo di preparazione. Assolutamente, io invito tutti coloro che guardano questa intervista, tutti i sostenitori della Fenice Venezia Mestre sia ad andare al palazzetto, perché fortunatamente si può tornare al palazzetto, ma anche a seguire la gara, anche a seguire la gara in diretta sul profilo Facebook della Fenice Venezia Mestre. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie a voi.